Vediamo adesso come è possibile caricare dei file o delle cartelle all'interno della nostra area. Entro nel mio team e vi prego di prestare attenzione a quale canale siete collegati. In questo momento io mi trovo nel canale generale. Tutto ciò che viene caricato all'interno del canale generale sarà visibile a tutti i componenti del team quindi tutti i docenti e tutti gli alunni ma se seleziono il mio canale dedicato quello privato quello che io caricherò in questo canale sarà visibile soltanto agli appartenenti a questo canale per cui coloro che non sono stati inseriti in questo canale non potranno vedere nulla. Vediamo come si carica un file. Io procederò a caricare sia un file in generale che nel sottocanale dedicato. Parto dal sottocanale vado in file e vado nella funzione carica. Posso caricare sia un file che un'intera cartella. Carico il file per motivo di brevità di tempo ma il procedimento non cambia. Scelgo un file, includo questo documento docente perfetto, il tempo che il file viene caricato e lo trovo qui. Posso anche caricare il mio file direttamente dai posto mettendolo come allegato. Lo carico dal computer. Vado a mettere un altro file. Metterò questo. invia. In questo momento se vado all'interno della sezione file vi ricordo che sono sempre nel mio sottocanale ho i due file quello caricato direttamente da qui e quello caricato attraverso il posto. E' chiaro che su questi file posso aprirli, copiarli, rinominarli, scaricarli e così via. Questi due file saranno visibili esclusivamente ai componenti di questo sottogruppo. Se invece vado in generale posso agire allo stesso modo. Carico un file. In questo caso vado a caricare un documento che chiamo documento per tutti. Potrebbe essere una programmazione da condividere con i colleghi. Posso agire anche da posto. Vado a caricare dal computer un altro file. Carico questo per esempio. lo invio. A questo punto all'interno di file sono sempre nella sezione generale. Io vedrò soltanto i due documenti che ho caricato nella sezione generale. Voglio fare una controprova. Esco dal mio team e entro in un altro team. Sono entrata con un altro account che comunque appartiene sempre a questo team. Entro all'interno del team. Mi trovo nella sezione generale. Come vedete ho il posto che io ho condiviso con tutti dal precedente account e in file ho il documento che ho caricato per tutti e l'altro documento che ho condiviso dal precedente utente nella sezione generale. Chiaramente nel mio sottocanale attualmente non ho nulla perché questo utente ha soltanto caricato un file ma come vedete questo file nell'utente con cui sono entrata prima non era visibile. Anche perché se voi notate tra i sottocanali visibili io ho soltanto il mio. Mentre l'alunno avrà modo di vedere sia i file che si trovano in generale sia quelli immessi dal docente con l'account docente prova sia dal docente immesso con l'account docente perfetto. Quindi dovete prestare attenzione al canale selezionato quando inserite dei file se non volete che i file inseriti siano visibili a tutti i componenti del team ma soltanto con quelli appartenenti al vostro sottocanale. Il prossimo video andremo a vedere altre attività.